Esaltare il tartufo, l'alogastronomia e la tradizione culinaria è tutto pronto per la 41esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo che si svolgerà dal 29 settembre all'1 ottobre ad Apecchio. Tre giorni dedicati alla valorizzazione dei propri prodotti tipici, un evento atteso da cittadini, turisti e buongustai. Lo sentiamo questo desiderio di partecipare, intanto è atteso lì nella nostra piccola comunità perché è molto attiva in vero fermento, c'è proprio una voglia di fare tutto al meglio, quindi di preparare le cose a puntino con grande qualità, ma c'è attesa anche da parte chi ha intenzione di venirci a far visita. E poi c'è questa serie di attività, di elementi, di iniziative che naturalmente rendono la manifestazione unica nel suo genere. Prima di tutto questo abbinamento tra tartufo, birra e territorio in generale. Pensiamo che in due giorni si concentrano veramente tanti spunti e tante occasioni di divertimento e di convivialità. Il sipario si alzerà venerdì 29 settembre alle ore 18 con l'apertura delle tipiche osterie del centro storico che verranno messe alla prova dal concorso Che Gusto. Una giuria di esperti dopo accurati assaggi proclamerà il miglior piatto al tartufo, il miglior piatto alla birra e il miglior vino sfuso marchigiano. Sabato la mostra entrerà nel vivo con il taglio del nastro in piazza San Martino alla presenza di autorità e della testimonial delle alte marche, la più volte campionessa mondiale di scherma, Elisa Di Francisca. Spazio alla birra nella giornata di domenica 1 ottobre quando verrà conferito il premio a Pecchio, città della birra, premio Franco Re, a due birrifici locali. Un programma fitto di eventi e nei tre giorni della manifestazione non mancheranno spettacoli musicali, artistici, mostre, intrattenimento per bambini e tanto altro. Abbiamo avuto la possibilità di intercettare, di poter avere con noi Orietta Berti che è un personaggio che non solo viene ricordato dalle generazioni più grandi come la mia eccetera, ma anche dai giovani perché ha saputo reinventarsi come artista pop in binomio con giovanissimi interpreti. Alle 5 e mezzo, alle 17 e 30 di domenica 1 ottobre questo concerto con la sua band in un'ambientazione molto bella, al termine del quale, concerto attesissimo, ci sarà questa proclamazione in correnazione di Regina del Tartufo. Un momento che incuriosisce, è però un momento che crea una bella atmosfera, una bella attesa e c'è un'ottima risposta da parte del pubblico. Durante questi tre giorni non mancherà ovviamente allegria perché il nostro vero ingrediente è la felicità, l'allegria e l'ospitalità che noi cerchiamo di dare ai nostri turisti che vengono a trovarci.